ciao a tutti e bentornati qui sul canale vi presento come sempre sono paolo e sono un infermiere questa settimana un video un po diverso vedremo qualche trucchetto e qualche consiglio su come usare una siringa in modi un po alternativi il primo più che un trucco è proprio una caratteristica delle siringhe vediamo che tirando semplicemente togliamo il cappuccio di protezione mentre se lo ruotiamo in questo modo possiamo rimuoverlo senza toccare il colletto dell'ago possiamo utilizzare una siringa da 2,5 senza lo stantuffo per aiutarci ad aprire le fiale in caso di necessità e senza alternative possiamo utilizzare una siringa senza lo stantuffo per clampare un catetere vescicale è possibile utilizzare una siringa da 10 o da 20 millilitri sempre senza lo stantuffo come strumento per manovra vagale bene ragazzi anche per questo video è tutto scriveteci qui sotto nei commenti se lo conoscete qualche altro trucchetto o modo alternativo di usare una siringa noi ci vediamo la settimana prossima in un nuovo video sempre qui su infermieri online ah sì quasi dimenticavo non dimenticatevi di iscrivervi ciao